Ore decisive per la ex Bluetech di Atessa che potrebbe essere acquisita dalla società MASRL. L'acquisizione della Ingegneria Italia è una notizia positiva, ha commentato il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli, il quale ha annunciato che vigilerà sull'esito della trattativa in corso. Intanto questa mattina i lavoratori hanno incrociato le braccia per il quarto giorno consecutivo, dando vita ad una manifestazione di protesta indetta dal sindacato USB per richiamare la solidarietà dell'intero comprensorio sui loro problemi. Ciò però al quale hanno partecipato anche lavoratori della Sevel e di altre aziende della Val di Sangro. Il totale blocco produttivo della ex Bluetech sta paralizzando l'attività della Sevel, la più grande fabbrica d'Abruzzo con circa 6.000 dipendenti dove si produce il furgone modello Ducato. Romeo Pasquarelli dell'esecutivo regionale USB lavoro privato insieme al coordinatore nazionale Paolo Sabatini ha detto che bisogna risolvere problemi che hanno portato alla mobilitazione dei lavoratori. Innanzitutto per l'ennesimo ritardo dell'erogazione dei salari, quindi degli stipendi, qui hanno diritto. Però dietro ci sono tante altre problematiche pregresse e soprattutto c'è la preoccupazione per il futuro, perché c'è una situazione societaria di conduzione aziendale, assolutamente crediamo non più, al nostro parere, non più all'altezza. Sono molto preoccupati e vorrebbero un cambio di passo e un cambio della situazione generale, perché non può continuare ad andare avanti così. Vi aspettate dal tavolo previsto per il 24 gennaio a Roma, al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico? Dal nostro punto di vista sicuramente questo è un passo importantissimo, quindi è un obiettivo raggiunto e lì dovrà esserci chiarezza. Bisognerà portare non più comunicati generici o ipotetici, su situazioni ipotetiche, ma bisognerà tirare fuori le carte e fare chiarezza su tante cose, proprio per assicurare a loro un futuro ed una stabilità, perché voglio per l'ennesima volta ricordare che questa azienda è produttiva, ha commesse, lavora, ha tanto lavoro, quindi non è una situazione come in una qualsiasi altra crisi aziendale dove manca lavoro, il lavoro c'è.